Palazzo Tè ha cominciato i lavori dedicati al centro espositivo, le fruttiere, e la caffetteria e bar bookshop che diventerà quello che verrà chiamato Spazio Tè. Questi lavori vedranno una rifunzionalizzazione dell'uso degli spazi stessi che verranno dedicati alle mostre, a performance. Il percorso nel palazzo manterrà la sua identità museale, mentre il giardino sarà liberamente accessibile a tutti i cittadini. La volontà di Palazzo Tè è quella di poter condividere con i cittadini di Mantova il patrimonio culturale, in modo che possano fruirne attivamente e creare una relazione più viva con la città di Mantova. Grazie a tutti.